Siamo qui all'editorio della musica per parlare di consumatori, dei loro diritti, per liberare i consumatori dalla vessazione delle iniquità del mercato, per una crescita felice, tutelando l'ingegno italiano, l'originalità dei prodotti contro ogni contraffazione, per un'educazione finanziaria che ci faccia capire quanto non siamo disponibili a sopportare oltre il peso di crisi di questo tipo, che metta in primo campo la tutela e la protezione dei consumatori. Insomma, un mare di iniziative che si concentrano a tutela della proprietà intellettuale, della privacy, perché i consumatori possano guardare al futuro con maggiore speranza e con maggiore coraggio.